Gentili telespettatori, buona giornata. Un'intervista alla Premier Giorgia Meloni fissa l'obiettivo per le elezioni europee del 2024, quelle che si svolgeranno l'8 e il 9 di giugno. Sì, sono elezioni europee, ma gli italiani andranno a votare come per le elezioni nazionali, tutti, tranne gli italiani fuori dall'Europa che non potranno votare, voteranno solo gli italiani in Europa, in Italia e fuori dall'Italia. Però diventa un referendum, una conferma, una verifica, più che altro una verifica di come stanno andando tutti i partiti, perché sarà un'elezione dove saranno chiamati tutti e 46 milioni di italiani a votare. L'affluenza sarà bassa perché gli italiani sono poco interessati alle politiche nazionali, figuratevi se sono europee e figuratevi d'estate. Non è ancora proprio estate, ma l'8-9 giugno. E così Meloni fissa una percentuale. Dice che una vittoria sarebbe confermare i voti che mi hanno portato a Palazzo Chigi un anno e mezzo fa. Una cosa non facile, non accade spesso che dopo un anno e mezzo si possa confermare quel consenso, ma è un obiettivo al quale punto. Allora, lo dice in un'intervista ad Agorà su Rai3. Ricordiamoci che di solito, solitamente, normalmente, chi governa perde voti, chi all'opposizione guadagna voti. È sempre stato così in Europa. Il governo, dal primo giorno che è instaurato, comincia a perdere voti. Una lenta discesa, perché l'italiano, principalmente di default, per impostazione, è sempre scontento. È strano che dopo un anno e mezzo la Meloni abbia più voti di quelli presi alle elezioni politiche del 2022. Lei fissa l'asticella al 26%. Mi sembra che Fratelli d'Italia abbia preso 25,8, qualcosa del genere. 26%. Con il 26% avrebbe intatto l'elettorato che l'ha portata al governo. 26%. Dopo le elezioni era salita 27, 28, 29, 30. C'è stato un momento che Fratelli d'Italia era data al 31%. Poi è cominciata la discesa, 31, 30, 29, 28,5, 28,8, 28,4 e poi si è scesi al 27, 27,5, ecc. Oggi, ieri, c'è stato il primo sondaggio che ha dato Fratelli d'Italia sotto il 27%, al 26,9 o 26,8 che è il sondaggio realizzato da SVG per il telegiornale di La Sette di Enrico Mentana che lo dirige. Dove sono andati questi voti? Sicuramente non nella Lega che ha perso rispetto alle elezioni politiche dal 8,8 se non sbaglio. Oggi la Lega è intorno all'8%. C'è qualche sondaggio che dà la Lega a livelli più alti, ma potrebbero essere i voti finiti tornati al capolinea Forza Italia. Forza Italia potrebbe stupire davvero alle prossime elezioni. Sapete che l'elettorato è partito tanti anni fa da Berlusconi, quasi 40%, poi negli anni si è spostato sulla Lega, quasi 40%, poi una parte si è spostato su Fratelli d'Italia. Adesso che i partiti sono stati provati tutti, non ce n'è più, vabbè c'è noi moderati ma insomma, con tutto il rispetto per Lupi e i politici di quel partito, però, insomma, noi moderati 0,9, 1,1, 0,8 non vi offendete però ci siamo capiti. Pertanto i partiti sono tre. Non ci sarà mai uno spostamento da Fratelli d'Italia a noi moderati, mai. Sono quei partitini satellite che, mi spiace dirlo per loro ma non servono a niente, non ho mai conosciuto nessuno che votasse per quei partiti se non loro stessi e i loro familiari e i loro amici, i loro conviventi, figli, fratelli e sorelle. Quindi, se un elettorato ha passato tutti i partiti, potrebbe anche ritornare al capolinea dall'altra parte, no? Si è partiti da Forza Italia, si è passati dalla Lega e si è finiti a Fratelli d'Italia, quelli che vanno via da Fratelli d'Italia potrebbero ritornare in Forza Italia. Non per Tajani, l'eterno numero due, il leader senza mordente, in Forza Italia nel ricordo di Silvio. Questo potrebbe essere. La Meloni dice fissiamo l'asticella al 26%. Oggettivamente, aggiunge l'Italia, lo scorso anno è cresciuto più della media europea, una cosa che non si vedeva da moltissimo tempo. In una situazione di estrema difficoltà l'Italia sta dando buona prova di sé. Vuol dire che va tutto bene? No. Vuol dire che le nostre politiche danno risultati migliori di quelle che abbiamo visto prima? Probabilmente, sì. E questo è vero. La Meloni non dice siamo il paese Superman, stiamo facendo meglio del passato, stiamo facendo meglio degli altri, risultati eccezionali? No, però stiamo facendo quello che si può, stiamo facendo meglio. Questo è una parte dell'intervista di Giorgia Meloni. Nel prossimo video la Meloni svela quando rinuncerà alla guida del paese, in quale occasione la porterebbe a rinunciare alla guida del paese, alla presidenza del Consiglio, il caso nel quale darebbe le dimissioni. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti, sicuramente massimo mezz'ora. Ricordatevi che poi c'è anche Teleitalia a seconda rete, dove poi lì trovate video come questo. Ce n'è uno al giorno, non più di tanto. Principalmente su Teleitalia c'è la maggior parte dei video. Poi questi video sono condivisi in Whatsapp, il canale di Whatsapp, il canale di Telegram, su Linkedin, su XTwitter, su Triads, su Facebook, c'è la pagina di Facebook che ha 10.000 iscritti. Grazie a tutti, a presto.